Nel centro di San Meno del Tronto ci portiamo sul campo Fratelli Valarine per vedere come lo stesso si presenta prima di questo ultimo confronto stagionale. Nel centro di San Meno del Tronto Nel centro di San Meno del Tronto E dopo i pronostici ecco qui l'arrivo di un piccolissimo tifoso della San Benedettese Calcio. Nel centro di San Meno del Tronto 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 La nostra macchina da presa ora entra in campo per raccogliere gli umori del pubblico del Balleri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E con l'occhio sulle palline per vedere il magnifico scenario di questo meraviglioso pubblico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.